Anche il Golfo di Policastro ha aderito all'appuntamento annuale che chiede a tutti un contributo all'ambiente. E stamane diverse comunità del territorio hanno condiviso la campagna di comunicazione Puliamo il mondo che invita i cittadini a restituire bellezza e dignità ai luoghi che amiamo. A Capitello, per esempio, un gruppo di volontari ha ripulito la spiaggia in compagnia del sindaco e del vice sindaco e al termine del riassetto ecco che cosa è stato trovato. Dei resti di legno di una struttura balneare trascinati a riva da una mareggiata dei giorni scorsi, niente di più. Il bagnasciuga di Capitello è il risultato integro e inviolato, i rifiuti non hanno contaminato la spiaggia. Analoga situazione si è registrata anche a Villammare dove a scendere in campo, oltre al vice sindaco e agli assessori comunali, sono stati soprattutto i piccoli studenti che muniti di guanti e sacchetti si sono impegnati per il ritrovamento di possibili oggetti inquinanti e per liberare la renile dall'eventuale presenza di spazzatura. Anche in questo caso l'esito del lavoro di riqualificazione è stato positivo. Sulla spiaggia la quantità dei rifiuti rinvenuti è stata davvero minima e la stessa situazione è stata riscontrata anche a Sapri, dove la scuola è intervenuta in prima linea. Sulla lunga battigia della cittadina sono stati raccolti pochissimi rifiuti e riempite solamente quattro buste di plastica.